Salve, sono Filippo Bosco, mi presento, sono un medico anestesista che lavora presso l'azienda universitaria Pisana e che è referente per quanto riguarda la medicina integrata e l'oncologia integrata presso la Breast Unit del Santa Chiara di Pisa. Ho scoperto da tempo, ormai, da qualche anno S-Drive, che ritengo uno strumento molto utile per il medico che se usato con sapientemente e con giudizio viene in aiuto anche in casi dove la medicina e dove con i metodi tradizionali noi non andiamo a capire quello che sta succedendo e quindi sta in mano a un bravo professionista, un bravo medico con il suo bagaglio e diventa veramente un grande ausilio per colmare quelle lacune che con i metodi tradizionali facciamo fatica ancora a venirne fuori. Completa benissimo l'anamnesi del paziente ed è un grosso aiuto di nuovo non solo per il medico ma un grande aiuto terapeutico per il paziente. Quindi benvenga questa tecnologia in mani sicure e affidabile. Grazie